I clienti venivano accolti in una vera e propria casa d'appuntamenti allestita in un appartamento ben arredato con tanto di suite dotata di idromassaggio. A fine prestazione tiravano fuori la somma concordata e se non avevano contanti nessun problema, si poteva pagare anche con carta di credito. Le nuove frontiere del sesso a pagamento a scoprire tutto sono stati i carabinieri della stazione di Corato che al termine di un'operazione antiprostituzione hanno tratto in arresto due donne, una 45enne italiana ed una 24enne originaria del Marocco. Erano loro a gestire la casa a luci rosse situata in una zona centralissima della città, ad attirare l'attenzione dei militari l'intenso via vai di uomini proveniente dall'abitazione composta da sette vani. Una volta entrati i carabinieri si sono trovati di fronte quattro donne di cui una impegnata con un cliente. Ognuna aveva il suo ruolo, c'era la segretaria che prendeva gli appuntamenti dietro un compenso di 8 euro a cliente. Le due arrestate invece si occupavano di mandare avanti gli affari, riconoscendo alle giovani prostitute una somma pari al 50% di quanto corrisposto dagli uomini per il rapporto. E i contanti, a quanto pare, non erano l'unico modo di saldare il conto. All'interno dell'abitazione, infatti, i militari hanno trovato anche un dispositivo elettronico per i pagamenti con carta, il cosiddetto POS, un particolare sul quale sono tuttora in corso accertamenti. Per le due donne, invece, si sono aperte subito le porte del carcere di Trani. Sono accusate di induzione e sfruttamento della prostituzione.